YOLANDA SWITZ E' la Pupsi Puy Puy Tone Allora vado a staccare questo e ve la faccio vedere meglio da vicino Allora questa è la borsa praticamente Sembra tipo la Louis Vuitton appunto però fatta a forma di cacca la Pupsi Pui Vuitton è il kit più costoso che io abbia mai comprato in vita mia allora vedrete dal titolo che probabilmente questo kit costa 100 euro ma non costa realmente 100 euro quindi voi scrivete sotto in un commento secondo voi quanto l'ho pagato veramente? esattamente, quanto l'ho pagato veramente vi dirò la giusta cifra alla fine del video ma voi scrivetemi sotto in un commento quanto l'ho pagato davvero oggi andiamo a fare, grazie a questa Pupuiton Pupsi Pupuiton che fa parte della famiglia dei Pupsi Surprise ma questa qua è un kit, è fatta in plastica e io ho solo aperto le giunture praticamente, ho tolto tutte le sicurezze eccetera non l'ho ancora aperta quindi non so dentro come sia fatta adesso lo andiamo ad aprire insieme, qui voglio la mia reazione ma come si apre? ah, ok, oddio ok oh mio dio quanta roba ok, c'è parecchia roba diciamo che probabilmente quasi ci vale il prezzo che l'ho pagata vediamo, togliamo questi ok, adesso io vi abbasso la videocamera e vediamo insieme come fare questi slime allora, ecco tutta la roba, ve la faccio vedere da vicino abbiamo come sempre il nostro dosatore d'acqua abbiamo il nostro cucchiaino con l'unicorno che è oro e qui abbiamo tutte le cose che possiamo mettere all'interno del nostro slime abbiamo questo dove andiamo a shakerare gli slime stessi ogni volta raga, io devo aspettare 20 minuti quindi praticamente questo video verrà lungo un'eternità queste sono tutte le cose che dobbiamo mettere dentro come gli sparkly glitter eccetera queste tutte le essenze queste qua invece sono le palline per farlo crunchy e questi tutti i colori allora togliamo anche le essenze perché poi le dobbiamo andare ad aprire ne facciamo 4 va? e poi facciamo verde? no questi, vediamo questo facciamo queste qui magari altri poi li vado a provare la prossima volta ragazzi praticamente quello che si paga di questa di questo di tutto l'ambaradon qui è la confezione ossia questo si c'è una grande varietà che possiamo fare di slime però mamma mia per quello che l'ho pagata lo sapete già il procedimento dobbiamo mettere ma pu all'interno del nostro del nostro shake praticamente tutto il contenuto di questa bottiglietta però la cosa che probabilmente mi sconvolge un pochino è che sì questi sono slime ma sono slime acquosi quindi potrebbe essere che da un giorno all'altro o si sciolgono oppure praticamente si inguriscono come la pietra non sono veri e propri slime fatti con la colla allora questa è la polverina che andiamo a mettere qua dentro io ne proprio tanta ok andiamo a vedere e a leggere bene le istruzioni dobbiamo mettere come sempre 30 ml d'acqua in ogni boccettina 30 ml magari possiamo fare una cosa visto che per avvantaggiarci magari vado a prendere altri contenitori miei e li facciamo là dentro perché altrimenti aspettare 20 minuti ogni volta per ognuno di loro è veramente estenuante quindi io li vado a fare tutti quanti insieme poi aspettiamo insieme tutti quanti 20 minuti comunque dobbiamo mettere 30 ml di acqua qua dentro quindi 2 cup di questo poi 5 gocce dell'essenza misteriosa e dobbiamo poi shakerare per un minuto e aspettare 15-20 minuti per far venire la giusta consistenza e scoprire di che colore è venuta la nostra pup la nostra cacchetta poi se vogliamo mettere some shimmer glitter qualcos'altro oppure le palline allora vediamo andiamo a mettere 15 di 1 ok 1 e altri 15 e 2 poi essenza ne ho presa una a caso sentiamo 1 2 3 4 e 5 allora sembra tipo anguria o tipo cetriolo tipo qualcosa di fresco ragazzi allora siete sicuri di chiudere bene la boccettina e iniziamo a shakerare quindi vado a shakerare per un minuto molto bene e poi procediamo con gli altri allora ragazzi vado a prendere questo contenitore così vado a fare il resto vediamo se è metallic allora vado ad aprire la boccettina che poi sono tutte bellissime e tutte diverse vediamo allora il colore è praticamente uguale a tutti visto che queste qui sono trasparenti quindi vedremo come sono i colori di tutti è giustamente poi dobbiamo andare a mettere l'acqua e 15 ml anche un'altra volta ok e adesso andiamo a mettere un'altra essenza vediamo com'è questa vediamo com'è questa oddio questa è buonissima è dolce vado a metterlo da parte e adesso procediamo con il prossimo allora il prossimo che voglio aprire vediamo è questo arancione prendiamo un'altra essenza che è questa vediamo com'è buona sa tipo di 2 3 4 e 5 oddio non mi so dire mi sa di fresco di un fiore ma non mi so dire che tipo di fiore però sa di fresco è molto buona ecco Yolanda che ritorna con il sa di fresco e procediamo con il prossimo sia questo viola che è bellissimo perché sta in questo contenitore a forma di orsacchiotto mi piace veramente tantissimo ma è rosa oddio è già rosa sempre 30 ml e l'ultimo profumo sentiamo com'è oddio non mi piace no mamma mia sa di ve lo giuro sa di pupù oddio è bruttissimo ok andiamo a scelgare anche questo voilà quest'altro fucsia chi lo sa come esce no esce praticamente bianco ma si vede un pochino che è rosato ok prendiamo la nostra boccettina andiamo a mettere il colore uh si vede che è verde si vede si vede un pochettino si vede c'è il riflesso ve lo giuro che si vede che è verde adesso vi metto pausa e noi ci vediamo tra poco quando tutti questi slime saranno completati allora ragazzi rieccomi ritornata con la seconda parte degli slime vediamo come sono venuti allora eccolo qua ta 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 ecco il nostro slime vediamo cosa posso andare a mettere vediamo uno unicorn magic vediamo cosa esce mettiamo la polverina all'interno la polverina oro vediamo invece lo unicorn sparkle nooo nooo vabbè come sono belli ma dovete capire che me li sono buttati tutti quanti in faccia guardate qua ragazzi come sono shimmer e glitterati perché in questo praticamente ho messo i glitter oh però ma è bellissimo cosa c'è glitter rosa ok ci sono i glitter rosa in questo qui no vabbè mi piace un botto guardate oh mio dio ragazzi oddio questo è bellissimo cioè sono diventata praticamente un unicorno vivente che bello guardate questo è molto morbido come slime ci è uscito uno slime abbastanza morbido bene mi piace guardate molto morbido come tipologia di slime allora vediamo un altro unicorn magic cosa ci è uscito come unicorn magic vediamo una polverina è quell'olografica ma è bellissima ok c'è i glitter dappertutto ragazzi pure nel naso vi devo dire proprio la verità che bello ok mi piace un botto guardate come cola che morbidoso guardate molto 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 morbido ok bene andiamo ad aprire invece un altro unicorn sparkle vediamo cosa troviamo quarizini ok abbiamo trovato i quarizini e apriamo un altro unicorn magic vediamo cosa troviamo questa volta come come polverina guardate qua che meraviglia no vabbè ragazzi ma scherziamo ok mettiamo ancora mescoliamo vediamo se l'effetto funziona su questo slime no vabbè raga ma veramente l'abbè io adoro no questo cambia ragazzi cambia colore raga abbiamo scoperto quello che cambia colore non mi ricordo qual è però è stupendo ed è morbidissimo vediamo com'è questo rosa andiamo a mescolare bene allora qua dentro oltre ad aprire un altro unicorn sparkle per vedere cosa c'è qui i cuoricini stelline oltre alle stelline andiamo a mettere questa volta anche il crunch andiamo a mettere le palline sono palline crunchose le andiamo a mescolare all'interno dello slime guardate che bello con le stelline con le palline questo slime rosa è stupendo adesso boh andiamo a vedere un altro unicorn magic che è questo lo apriamo e chi lo sa cosa ci uscirà no vabbè ma che effetto è ragazzi oh mio oh mio dio oh mio dio raga è un effetto olografico voglio ma stiamo scherzando cioè ma stiamo scherzando ragazzi guardate l'effetto com'è bello comunque sono veramente contenta allora adesso vi svelo il prezzo originale che ho pagato questo pui piton mamma mia ragazzi le mie mani guardate scimmerose al massimo l'ho pagato 95 euro e 90 ragazzi ed è il kit slime più costoso che io abbia mai comprato non spenderò mai più una cifra simile per un kit slime ve lo giuro io vi mando un bacio un abbraccio forte noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14.30 con un nuovissimo video bye